Importante rivelazione su Perla e Mirko, non proveniente però direttamente dalla casa del grande fratello. Una persona che li conosce molto bene ha deciso di rompere il silenzio sull'ex coppia e ha rivelato cosa succederà tra i due, soprattutto quando finirà il reality show di Alfonso Signorini. Una dichiarazione molto importante, coi telespettatori che si saranno certamente di questo personaggio noto al pubblico ha quindi parlato di Perla e Mirko, che attualmente sono distanti visto che lui è stato eliminato da tempo dal grande fratello. Il rapporto tra i due è sempre sembrato ambiguo, dato che nonostante siano degli ex, pareva esserci ancora del sentimento. E ora abbiamo scoperto cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi. Perla e Mirko del grande fratello, cosa è stato svelato sull'ex coppia. A parlare è stata un'ex protagonista di Temptation Island, che quindi ha conosciuto benissimo le dinamiche di Perla e Mirko, poi diventati volti del grande fratello. Questa giovane ha innanzitutto detto con chi è rimasta in rapporti nell'intervista a Lollo Magazine. Nessuna mi ha delusa, anzi. Ho un rapporto bellissimo di amicizia con Alessia Bottiglia. Da quel giorno non ci siamo più lasciate. Ci sentiamo tutti i giorni e quando è possibile ci vediamo. La porterò avanti negli anni questa amica.